ecco benvenuti sul mio canale questi sono gli orecchini finiti che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente come vedete io li ho fatti con pendenti e brillano molto poi ho i capelli blu per cui stanno molto bene volevo dirvi che nel video ho inserito il link di questi dei distanzieri però non di quelli di questi qui bensì di questi di questo tipo qua che troverete di tutti i colori si usano allo stesso modo magari dovrete fare più strati perché sono leggermente più sottili però è sempre il sistema è sempre quello di mettere sotto il cristallo il distanziere l'alto cristallo e andate avanti perché purtroppo questi sono usciti momentaneamente dalla produzione adesso poi quando saranno di nuovo disponibili ve lo farò sapere per adesso non ci sono questi tanto per intenderci che adesso ve li faccio vedere in rosso ma comunque sono così vedete la larghezza è il doppio per cui o mettete due di questi sopra quelli che vi ho messo io oltretutto sono colorati quindi o ne mettete due alla volta e poi mettete il cristallo sopra così rispettando ovviamente i colori che troverete dello stesso colore uno sopra e uno sotto questo modo mettiamo che siano verdi ne metteremo un cristallo verde sotto e un cristallo verde sopra per fare diciamo il il giro ve lo faccio vedere su un chiodino che facciamo prima perché così dalle mani mi sfuggono ecco per fare una un orecchino infiliremo sempre se li volete fare col pendente è semplice perché va messo il cristallo e uno di questi distanzieri che in questo nel vostro caso sarà colorato e non bianco e poi farete l'occhiellino lo attaccherete se invece dovete fare l'orecchino dovrete andare avanti io vi consiglio per fare spessore di usare due distanzieri insieme così è un cristallo e di procedere in questo modo quindi di nuovo poi adesso se ce li ho perché io di questo tipo non ne avevo tantissimi ecco se ne mettete uno di seguito all'altro così vi faccio vedere questi sono sul velo messi sul verde tanto per cambiare un po colore ecco voi andrete avanti in questo modo facendo questa questa sovrapposizione se no potete anche utilizzare un solo distanziere è un cristallo alternati non ve lo proibisce nessuno di fare un lavoro di questo tipo cambiate leggermente la come si dice un cristallo è semplicemente la disposizione degli elementi ma risultato non cambia no come si dice in matematica io metto un distanziere un cristallo un distanziere e otteniamo sempre lo stesso risultato finale se preferite lo potete fare così oppure potete farlo doppio come volete questi sono diciamo leggermente più sottili ecco perché io li utilizzavo doppi però vanno anche benissimo tra un cristallo e l'altro perché sono distanzieri si chiamano così per distanziare appunto sono rondelle di strassi quelle che io vi ho messo nel link sono queste le troverete però di vari colori oltre che il bianco e quindi adesso io non so se ce n'ho da farvi vedere di altri colori no non ce l'ho questi momentaneamente quelli che ho utilizzato per fare questi blu momentaneamente sono fuori fuori commercio quindi attualmente non li ho trovati l'aveva la pandal ma non li ha in questo momento evidentemente non lo so stanno riassortendo e comunque potete farli con questo sistema viene un orecchino bellissimo ugualmente luminosissimo quindi vi ho fatto vedere come si indossano vi ho spiegato anche la differenza quindi spero che continuerete a seguirmi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e chiedetemi se avete bisogno di consigli ciao a tutti